Grazie Presidente e membri del Governo. È ormai una triste realtà quella dei provvedimenti di questo Governo che denotano un immobilismo surreale che diventa ancora più lampante oggi alla luce della grave situazione che il nostro Paese sta vivendo per l'eccezionale ondata di maltempo che ha colpito il Nord-Ovest, compromettendo la vita dei cittadini, la viabilità, i territori, gli edifici privati, le imprese, le opere pubbliche. L'alluvione di tre giorni fa, le piogge incessanti, gli alberi dei fiumi pieni di detriti e ostruiti da ghiaie e tronchi di alberi hanno messo in ginocchio il Nord-Ovest del nostro Paese. Il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria stanno contando i danni. Da una prima sommaria stima effettuata in giornata di oggi dalla Col di Retti, ammonterebbero 300 milioni di euro gli effetti devastanti del maltempo solo su agricoltura e imprese. Si parla di altrettante per le opere pubbliche. Migliaia di cittadini rimasti senza elettricità, telefono, gas, intere frazioni e comunità isolate. Il bilancio provvisorio ora parla di almeno otto morti e un disperso. È una situazione complicatissima. Collegamenti nazionali e internazionali strategici completamente fuori uso, tra cui la strada statale del Colle di Tenda e il relativo tunnel, che collega l'Italia alla Francia, un'arteria internazionale fondamentale per il sud del Piemonte. Situazione drammatica ovunque, dalla Valle Gesso, alla Valle Vermenagna, alla Valtanaro, alla Valsesia, alla Valle Cervo, fino alla Valle Trebbia, dove è crollato il ponte. Tantissime realtà colpite, ma nel Piemonte sono oltre 108 i comuni coinvolti. In queste ore i sindaci, gli amministratori locali, gli uomini della protezione civile, i volontari, i privati, centinaia di persone che si stanno dando da fare, sono al lavoro per il ripristino e la messa in sicurezza dei territori. A tutti loro va, Presidente, questo immenso grazie e il nostro applauso. Un ringraziamento particolare ci sentiamo di rivolgerlo anche al Presidente della Repubblica, Mattarella, che si è fatto interprete del sostegno nazionale, telefonando direttamente al Governatore del Piemonte nella giornata di ieri mattina. Il Presidente del Consiglio, Conte, invece si è preso un po' più di tempo. È riuscito a telefonargli oggi a mezzogiorno, tre giorni dopo che è successo questo evento drammatico. Non credo che avesse di meglio da fare di portare la solidarietà a degli uomini e delle donne volontari che stavano lavorando, ma soprattutto a chi ha subito questo drammatico evento in Piemonte. Questa è una fragilità del Nord-Ovest, già evidenziata nel 1994, quando ci fu l'alluvione con decine di morti, e nel 2016, a cui la Lega Salvini Premier, il nostro movimento, ha cercato di porre rimedio già in questo provvedimento, nel DL Agosto, attraverso un emendamento sul dissesto idrogeologico, con l'istituzione di un fondo finalizzato alla prevenzione di esondazione e alluvioni con una dotazione da 100 milioni di euro, che però non è stato approvato, lo sanno bene i nostri colleghi in Commissione Bilancio, ma ha colto come un ordine del giorno. Sappiamo che gli ordini del giorno contano poco, però facciamo tesoro perché questo fondo deve essere inserito nella prima legge disponibile che andremo ad approvare in questo Parlamento. Lo facciamo per i cittadini questo. Resta il fatto che questo governo, sbandierando un provvedimento da 25 miliardi come quello che noi andremo a provare di nuovo con la fiducia oggi, non ha messo un centesimo su un tema così importante. E oggi la situazione è purtroppo questa. Abbiamo interi territori colpiti in assoluta difficoltà. Scandalosa poi, Presidente, l'intervista, ma la definirei anche vergognosa, del Ministro Costa, rilasciata oggi al quotidiano La Stampa, dal titolo I soldi contro il dissesto ci sono, i comuni non sanno come spenderli. Ma qui siamo alla follia di un governo allo sbando che fa lo scarica barile sui sindaci. Si vede che il Ministro non è mai stato un amministratore locale, non ha mai letto il suo curriculum, ma secondo me non ha mai fatto nemmeno il consigliere comunale per dire una cosa del genere. Signor Ministro Costa, glielo diciamo da quest'Aula, i decreti attuativi li fa il Ministro, i ministeri, non li fanno i sindaci, i consiglieri regionali o le regioni. Si assuma le sue responsabilità, che sono gravissime. Tiri fuori la dignità e la professionalità e l'applico al Ministero al posto di andare a incolpare delle persone che non hanno nessuna colpa in questo caso. Ci vuole da subito un decreto che dia lo Stato di calamità, di emergenza immediato, con risorse certe e nomini i presidenti di regione, i nostri governatori, come commissari al fine di accelerare quelle che sono le procedure per ripristinare lo Stato dei fatti. Ci sono strade internazionali completamente impraticabili in questo momento. Su questo, sulla pulizia degli alberi dei fiumi e su tutto quello che riguarda la sistemazione dei torrenti, io ricordo al Ministro e al Governo che noi abbiamo depositato un provvedimento nell'aprile del 2018, prima firma del nostro collega Paolo Arrigoni, ma l'abbiamo firmato tutti noi come Lega Salvini Premier, è un disegno di legge nel quale si dà la responsabilità ai sindaci e ai governatori per stabilire le procedure d'urgenza per la pulizia degli alberi, una semplificazione. Questo provvedimento è fermo perché il Presidente della Commissione Ambiente del Senato, avendo la stessa maglia del colore politico del Ministro Costa, completamente bloccato anche questo. E questa è una vergogna per i nostri cittadini, per i nostri sindaci, per gli amministratori. Allora, se noi vogliamo, Presidente, salvare il Nord-Ovest da questo dramma, ci vogliono risposte certe, immediate e concrete, come fece il nostro sottosegretario Vagna Gava, che nel 2019 di sesto idrogeologico finanzò i comuni con 315 milioni di euro veri, non parole, non farfalle, soldi veri. Io rivolgo un invito finale al Presidente del Consiglio, il Ministro Costa, di venire a visitare i luoghi, di confrontarsi con le persone che stanno spalando, pulendo e lavorando. E così da un confronto serio, concreto, magari gli viene qualche idea in più preziosa nella propria testa. Grazie, Presidente.